Musica L'assessore regionale Foroni, nei luoghi colpiti un anno fa dall'alluvione, stanziati 22 milioni per la Valsassina e il lago, il suo annuncio, i sindaci illustrano i progetti di ripristino e consolidamento. Tra il 2 e il 5% di contagiati nel territorio lecchese, 1 su 3, assintomatico, resi noti i dati dei test sierologici promossi a livello nazionale dal Ministero della Salute. E dopo mesi in prima linea, nell'emergenza, la SST di Lecco annuncia nuove assunzioni, in arrivo 19 medici e 31 infermieri negli ospedali di Lecco e Merate. Bilancio positivo per il Lecco Film Fest, manifestazione dedicata al cinema e al mondo delle donne. Già si pensa alla prossima edizione, ma la CGL Bacchetta, occasione persa. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Unicallecco. In primo piano torniamo ad occuparci della violenta alluvione che lo scorso anno ha colpito i comuni della Valsassina e dell'Alto Lago, oggi sopra luogo dell'assessore regionale Pietro Foroni, nei territori maggiormente colpiti appunto dal nubifraggio che ha provocato danni ingentissimi, l'incontro con i sindaci a Barzio, nella sede della comunità montana Valsassina, Valdesino, Valvarrone e Riviera, ha annunciato uno stanziamento per il territorio lecchese di 22 milioni di euro. Sentiamo. Sopra luogo oggi nei luoghi colpiti dall'alluvione di un anno fa, i paesi della Valsassina, del Valvarrone e dell'Alto Lago, ma soprattutto buone notizie da parte di regione Lombardia con stanziamenti importanti anche sul fronte della prevenzione. Assolutamente, sin dall'inizio c'è stata una fortissima sinergia da parte di regione Lombardia con le amministrazioni locali. Abbiamo interessato subito il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile al fine del riconoscimento dello Stato di emergenza, riconoscimento che è avvenuto l'anno scorso. La regione Lombardia ha anticipato da subito le somme per i pronti interventi e le somme urgenze che ci sono state riconosciute dallo Stato, paga circa 2 milioni e 600 mila euro, che come regione abbiamo anticipato subito per fronteggiare, appunto per garantire l'immediata sicurezza di questi territori gravemente colpiti dai fenomeni calamitosi dell'anno scorso. Abbiamo avuto la buona notizia, grazie all'interlocuzione con la Protezione Civile nazionale, di un ulteriore stanziamento di circa 38 milioni di euro, di cui 22 milioni saranno destinati appunto a questa zona, la Valsassina, fortemente colpita con interventi economici che andranno nella mitigazione del rischio idrogeologico e per la difesa di suolo, appunto per intervenire su quelle parti di territorio maggiormente colpite dai fenomeni dell'anno scorso e per garantire situazioni di sicurezza. Non solo, solo come regione Lombardia abbiamo stanziato 137 milioni di euro per la difesa di suolo e il rischio idrogeologico per gli anni 2021 e 2022, oltre 64 milioni invece per il servizio idrointegrato. Questo perché riteniamo che la prevenzione sia il rimedio principale davanti a situazioni molto spesso caratterizzate da fenomeno di maltempo improvvisi che si caratterizzano per una violenza di fenomeno limitata nel tempo e limitata anche nei chilometri quadrati ma di una straordinaria violenza che provoca danni. E quindi davanti a questa situazione certamente intervenire per riparare ma il miglior rimedio, la miglior medicina è quella della prevenzione. E intanto i sindaci dei paesi colpiti dall'alluvione hanno fatto il punto sugli interventi conclusi e su quelli ancora in itinere tra le richieste più stanziamenti soprattutto sul fronte della prevenzione. I dettagli in questo servizio. Un anno fa la terribile alluvione che ha colpito la Valsassina e l'Alto Lago premana tra i paesi maggiormente feriti. La situazione? Tanto è stato fatto ma tanto rimane da fare. Abbiamo messo in sicurezza quello che era l'abitato quindi principalmente il nostro compito è quello di salvaguardare le persone. Però il territorio di Premana è molto vasto. è molto vasto e gli interventi da fare sono tantissimi. Quello che non è più stato fatto da 50 anni ad ora probabilmente adesso è veramente da valutare e per prevenire questi dissesti desiderologici bisogna intervenire sul territorio con una manutenzione adeguata sui canali e sul disboscamento. Ci sono tanti progetti che noi abbiamo già pronti legati soprattutto alla regimazione dei fiumi soprattutto dei fiumi diciamo secondari che però in quell'occasione non si sono dimostrati secondari ma di un'intensità pazzesca e soprattutto lavorare sui ponti sui ponti perché i ponti non sono più in grado adesso di far passare con le mole d'acqua di queste bombe d'acqua che si riversano ormai nell'abitato. Per prima cosa bisogna ristorare i privati che hanno avuto dei danni e danni che non sono imputabili a loro responsabilità ma alla situazione del fiume. L'altro aspetto invece è chiedere una manutenzione vera e costante del fiume che è di proprietà di Regione Lombardia, il Varrone e della diga che è di Enel non è accettabile che il comune di Dervio subisca le conseguenze di mancata manutenzione e di un'azienda privata che è Enel E che fa i soldi con l'energia elettrica non manutenendo in maniera adeguata quella diga con i rischi che la nostra comunità ha. Molto è stato fatto però c'è ancora molto da fare bisogna mettere in sicurezza tutto l'abitato lungo la SP67 e lungo la provinciale con opere di regimazione idraulica sono interventi cui devono essere destinate parecchie risorse stiamo parlando di qualche milione di euro quindi stiamo aspettando il piano di riparto proprio per poter partire nel fare queste opere. E ora torniamo a parlare del coronavirus tra il 2 e il 5% di contagiati nel territorio lecchese un numero fortunatamente ben lontano dal 24% di Bergamo questo è il risultato dell'indagine sulla diffusione del coronavirus a livello nazionale promossa dal Ministero della Salute sentiamo a fronte del 24% di Bergamo due province confinanti che sono Como e Lecco sono nell'ordine del 3-5% quindi questo vi dà già un'idea della straordinaria variabilità non solo interregionale ma anche intraregionale sono tra i 10 e i 17 mila i residenti in provincia di Lecco venuti a contatto con il SARS-CoV-2 questi per il nostro territorio i risultati dell'indagine sierologica promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con la Croce Rossa in tutta Italia sono 65 mila le persone sottoposte a prelievo del sangue per individuare quante di loro abbiano sviluppato gli anticorpi in risposta al coronavirus e stimare il numero complessivo di individui contagiati il dato per il nostro territorio non diffuso da Istat nelle sue tabelle di analisi è stato svelato dal professor Franco Locatelli presidente del Consiglio Superiore di Sanità durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati dell'indagine un numero fortunatamente ben inferiore rispetto alla vicina Bergamo tra il 3 e il 5% contro il 24% orobico Cremona, alta provincia fortemente colpita dall'epidemia si attesta al 19% a livello nazionale la siero prevalenza è del 2,5% pari a quasi un milione e mezzo di persone la media lombarda è del 7,5% da sola la nostra regione assorbe il 51% delle persone che hanno sviluppato anticorpi il 27,3% dei contagiati non ha avuto alcun sintomo siamo fuori dalla tempesta ma non possiamo abbassare la guardia il messaggio lanciato dal Ministro della Salute Roberto Speranza Com'è vero che siamo fuori dalla tempesta è anche vero che non siamo in un porto sicuro e quindi c'è bisogno ancora di cautela di prudenza dobbiamo continuare il nostro percorso di riaperture ma con gradualità con prudenza e non disperdendo nella maniera più assoluta il lavoro fatto finora perché i sacrifici fatti dalle italiane e dagli italiani non possono assolutamente essere vanificati e a proposito di sanità tempo di assunzioni per la SST di Lecco che rafforza il suo organico dopo mesi in prima linea nell'emergenza Covid 19 medici e 31 infermieri prenderanno servizio negli ospedali di Lecco e Merate tempo di assunzioni per la SST di Lecco che rafforza il suo organico dopo mesi in prima linea nell'emergenza coronavirus 11 i medici assunti a tempo indeterminato per il reparto di anestesia e rianimazione 8 di loro prenderanno servizio all'ospedale Manzoni di Lecco 3 al Mandic di Merate 6 invece le assunzioni di medici per il reparto di medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza 3 a Lecco e 3 a Merate oltre a 2 specializzandi con contratto fino al conferimento del titolo di formazione specialistica nel piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale sono stati assunti 31 infermieri che prenderanno in carico i bisogni dei pazienti fragili nella loro complessità i primi 4 urgentisti dovrebbero prendere servizio già a partire da questo mese mentre le altre assunzioni si concretizzeranno dai primi di settembre in poi per quanto riguarda gli infermieri i contratti a tempo indeterminato partiranno dal 1 gennaio 2021 come da normativa di legge ma fino ad allora sarà possibile usufruire dei contratti a tempo determinato la SST di Lecco ha proceduto a deliberare l'assunzione di 50 operatori sanitari con l'obiettivo di rafforzare le risorse umane operanti nell'azienda commenta Paolo Favini direttore generale della SST di Lecco la volontà dell'azienda è quella di integrare e potenziare il proprio organico nell'ambito dei due settori che in questo momento si reputano di maggior sofferenza anestesia e rianimazione e medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza pertanto inseriremo nel nostro organico 19 medici che opereranno nei nostri presidi di Lecco e Merate il personale infermieristico che prenderà servizio da gennaio 2021 conclude Favini corrisponde ad una politica aziendale tesa al rafforzamento dell'assistenza direttamente a casa dei propri utenti si è conclusa con successo la prima edizione dell'Eco Film Fest la manifestazione dedicata alla settima arte che ha invitato i lecchesi alla riflessione sulla società odierna attraverso lo sguardo femminile un'esperienza condivisa con entusiasmo dall'intera comunità ha commentato Monsignor Davide Milani e si pensa già all'anno prossimo si è conclusa domenica sera con l'intervento del regista Gianni Amelio e la proiezione del suo film Il primo uomo la prima edizione dell'Eco Film Fest è dunque già tempo di bilanci per la manifestazione dedicata alla settima arte che per quattro giorni ha animato il centro di Lecco con incontri proiezioni spunti di riflessione sulla società odierna partendo dallo sguardo femminile il festival ha richiamato l'attenzione di numerosi lecchesi che hanno accolto con entusiasmo un'importante occasione di rinascita culturale post lockdown e gli ospiti illustri che si sono raccontati dal palco di piazza Garibaldi da Paola Turci a Violante Placido da Maria Grazia Cucinotta a Matilde Gioli e tanti altri è stato un evento corale di un'intera comunità che si è ritrovata attorno alla nostra proposta la fatta propria e la trasformata in un'esperienza condivisa commenta Monsignor Davide Milani prevosto di Lecco e presidente della fondazione Ente dello Spettacolo e della rivista Il Cinematografo promotori del festival insieme a Confindustria Lecco Mi hanno colpito l'entusiasmo e la partecipazione che si sono registrati attorno all'evento continuo a Monsignor Milani Il segno più tangibile di questa partecipazione ce l'hanno data sia il numero di persone che hanno preso parte con grande attenzione ai diversi momenti sia la collaborazione offerta dalle decine di volontari in prevalenza ragazzi che si sono sentiti attori di questo evento Questo atteggiamento è stato colto da tutti i nostri ospiti ma anche dai media locali e nazionali che ci hanno seguito Soddisfazione anche per il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio Lorenzo Riva La risposta del pubblico non si è fatta attendere ed ogni incontro ha registrato una grande partecipazione Penso si sia riusciti a centrare anche un altro obiettivo quello di lanciare un segnale di speranza e questo è forse l'aspetto che in un momento così difficile ci stava più a cuore Grande merito va Monsignor Davide Milani dal quale è partita la provocazione iniziale che si è concretizzata poi in Lecco Film Fest Un evento conclude Riva che ha ambizioni di diventare un punto di riferimento nazionale e che vedrà la prossima edizione nel 2021 Sulla prima edizione dell'Ecco Film Fest si sono espressi anche i sindacati della CGL Lecco e l'associazione Punto Rosso promotrice della mostra il filo rosso storie del movimento delle donne a Lecco un'occasione sprecata dicono in alcuni dibattiti del festival la rappresentazione del mondo del lavoro è stata affidata a importanti esponenti del mondo della musica del cinema e dell'imprenditoria dimenticando le lavoratrici tipiche sicuramente dibattite di un certo interesse troppo lontani però dalla vita reale di milioni di donne che quotidianamente vivono la condizione lavorativa precaria e discriminatoria la recente pandemia da Covid-19 ha aggravato e aggraverà ulteriormente tale condizione all'incertezza per il futuro si aggiunge il grave problema della violenza domestica amplificato durante il periodo della quarantena per questo ci sarebbe piaciuto vedere rappresentata anche la reale condizione lavorativa e di vita delle donne con tutte le sue complessità e specificità rendendo quindi la Kermes un'opportunità di riflessione e un esercizio di confronto veniamo alla politica inaugurato in piazza 20 settembre il nuovo punto elettorale della Lega un luogo d'incontro tra militanti e cittadini per raccogliere proposte e idee per il futuro della città inaugurata la sede elettorale della Lega una posizione centralissima qui in piazza 20 settembre noi siamo molto soddisfatti per questa nuova apertura perché come tutti sanno la Lega è un movimento di piazza un movimento abituato al contatto con la gente col cittadino abbiamo chiaramente insediato i vari gazebo nelle piazze centrali nei rioni come consuetudine però questa è una sede che ci consente di avere un maggior approccio col cittadino che magari è interessato a dare dei contributi dei suggerimenti anzi rilancio anche questo messaggio chiunque avesse voglia di condividere discutere suggerire o comunque fare osservazioni nei confronti nostri o dalla coalizione che rappresentiamo non si faccia scrupoli questa sede è aperta a tutti leghisti non leghisti militanti non militanti ma soprattutto a tutti i cittadini che vanno incontro a questo importante appuntamento elettorale in un momento di emergenza sanitaria che in un certo senso ci limita e non ci consente di svolgere tutte le attività consuete durante la campagna elettorale quindi benvenga questa sede che sarà anche l'approccio ideale per invitare poi esponenti di partito a livello parlamentare a livello europeo a livello locale per rendere ancora più interessante durante il dibattito elettorale Scegliere la Lega nell'ambito del centro-destra a sostegno di Peppino Ciresa perché in questi dieci anni l'amministrazione Brivio del tutto il centro-sinistra ha deluso quindi l'eco ha bisogno di svoltare noi ci siamo ci siamo con una progettualità veramente importante necessaria per questa città soprattutto dopo l'emergenza Covid dove il divario tra territori virtuosi e territori che tirano a campare è fondamentale questa città ha delle potenzialità inespresse soprattutto dal punto di vista del turismo con il centro-destra e con la rega riuscirà sicuramente ad esprimerle una notizia in chiusura si sono svolti ieri a Napoli i funerali dell'ex consigliere comunale Ciro Nigriello padre dell'assessore Roberto Nigriello la famiglia ha comunque previsto un momento di saluto pubblico all'ecco in programma giovedì 6 agosto alle 18 allo stadio Rigamonti ceppi si chiude qui questa edizione del telegiornale seguiteci anche sui social su facebook su twitter su youtube sulla nostra pagina sul nostro sito www.teleunica.com grazie per essere stati con noi vi auguro un buon proseguimento di serata